e buongiorno a tutti obbifane e benvenuti in questo secondo fantastico episodio del tg delle cose belle così allora dopo questa fantastica introduzione questo video spettacolare questa grafica accattivante che avete potuto ammirare come intro di questa seconda puntata entriamo subito al solo andremo subito nel comparto di articoli che ho deciso di presentare per voi in questo afosissimo giorno di oggi giovedì 4 luglio, meno male che ce l'aria condizionata partiamo subito con una mega chicca che i fan più hardcore dell'Hobby One Store si ricorderanno perché circa un annetto, un annetto e mezzo fa era già presente in negozio questa biscottiera a forma di casco di dart, veramente veramente splendida e la cosa figa è che vi dovete, immaginate con me, immaginiamo insieme ti svegli la mattina, ti fai il tuo caffè latte, macchiato, freddo, caldo, quel che sia e ci devi pucciare i biscottini, ci devi pucciare le gocciole piuttosto che il pan di stelle piuttosto che biscotti alla cicoria, dipendentemente dai vostri gusti avete la biscottiera di dart, quindi che fate? L'alzate, estraete il vostro biscotto ma quando andate ad alzarla tu vuoi mettere la figata di fare colazione così, piuttosto che ma ora apro la busta delle goccele, ci metto la mano ma che è? C'è questo? e fa regolazione in un certo livello ovviamente, vediamo se mi riesco a far vedere questo ovviamente poi si può estrarre tranquillamente per poterlo lavare e quant'altro ma la cosa principale ecco, non l'ho rimesso storto bello della diretta dicevo, la cosa principale è che ci sta il suono, il suono del casco di dart, vede? è una cosa veramente, veramente bellissima da avere se sei fan di Star Wars da avere se sei fan del baseball da avere, cioè da avere, a prescindere cioè questo lo devi prendere, moco subito troverete due pezzi in negozio quindi mi raccomando, come al solito la mia premura è di avvisarvi di affrettarvi perché se no, dopo mi dispiace più a me quando mi venite qua con gli occhi al cuore, no? oddio, ah, mi sono venuto a prendere, è finito e rimani così, capito? scioccato, incazzato con me comunque, andiamo subito avanti col secondo articolo abbiamo parlato di cuore quindi vi presento la Funko Pop di Bitty Boop versione Sweet Earth che è veramente adorabile cioè è adorabile allora, adorabile perché? anzitutto per il fattore dei dettagli cioè guardate qua sulla gambina ci sta il cuoricino un mazzetto di rose lo smalto cioè è fatta veramente, veramente bene poi vabbè, con i caratteristici occhi di Bitty Boop che fortunatamente non sono stati chiamiamoli così adattati allo schema classico delle Funko quindi occhietto a pallino nero e basta e devo dire che veramente funziona tantissimo Bitty Boop veramente funziona tantissimo è fantastica, adorabile anche la confezione ci piace molto qua un po' l'immagine classica un po' retro appunto di Bitty veramente da avere veramente da consigliare per per un regalo alla vostra Girls per un regalo al vostro Boys perché ci ho messo la S così sembra che avete tante relazioni vabbè da regalare o eventualmente per ringrossare le fine della vostra collezione di Funko Pop poi arriviamo a un articolo che in realtà ne sono di più quindi in realtà non ne sono tre già dal secondo episodio abbiamo sforato con il vi presento tre articoli vi presento il terzo tema Jurassic Park e di questo tema ci saranno due tre articoli che vi faccio vedere all'Ambress come si suol dire veloce veloce intanto la Funko Keychain di Blue bellissima sapete che io adoro le Funko Keychain sono veramente bellissime hanno un costo più contenuto della Funko Pop e sicuramente non hanno nulla da invidiare a livello di dettagli poi vabbè Blue di cosa stiamo parlando inoltre per tutti voi che avete la automobile avete l'opportunità di acquistare direttamente qui in negozio da Obi-Wan il badge del Tourvei con il numero 4 e il numero 5 tutte e due saranno distrutti durante il primo film dal tirannosauro però vuoi mettere anche se sai che te lo metti in macchina e fra X tempo un tirannosauro ti distrugge la macchina vuoi mettere che figata andando in giro con questo qua perché girano anche ti fa il caffè al bar qualcuno passa vicino alla macchina che fa un cazzo questa qua il Tourvei di Jurassic Park cioè tanta roba tanta roba cartoncino 120 mg classificazione 80 mg quindi questa qua veramente resistente veramente veramente benissimo ripeto numero 4 e numero 5 qui disponibili da Obi-Wan mi sa che prima mi è scappata una parolaccia quindi spero che tutti quelli che stiano guardando questo video siano over 18 anni poi arriviamo alla chicca e con questa dopo ci salutiamo abbiamo la Color Effect LED che è la Color Effect LED? ora te la faccio vedere allora chi viene in negozio spero la maggior parte di voi avrà visto 3000 volte che qua sul bancone ci sta la Color Effect Light di Batman e tutto quello che mi ha detto ma che figata che figata e io l'ho presa di Jurassic Park vi faccio vedere come funziona anche perché la scatola non essendo sigillata ci dà l'opportunità appunto almeno di aprirlo di fare un mini unboxing per voi si compone di questa lamina di questa base decisamente più figa della base mia veramente bella è di un classico cavetto USB vi faccio vedere ma è un cavetto USB niente di trascendentale e nulla voi che cosa fate? mo stacco il cavetto mio così questo qua non mi metto a a strecciarlo che non c'ho voglia e semplicemente che si fa? si prende il cavetto USB attaccato al PC attaccato eventualmente se lo volete vicino al letto lo attaccate con una semplicissima presa per il cellulare per ricaricare il telefonino quindi potete mettere veramente ovunque e questo è quello che succede ovviamente ora stiamo cioè mattina sulle 11 e 10 questo fa molto più la sua porca figura di sera vedete cambia colore costantemente dal blu al rosso al verde al giallo ed è veramente bello l'unica cosa che ripeto dovrei avrei dovuto farlo di sera questo video ecco già abbiamo condizioni di ombra migliori così vedete che figata ed è veramente tantissima roba potete ripeto metterlo al comodino metterlo nella scrivania dove vi pare e avete un oggettino al tema Jurassic Park veramente di tutto rispetto 7 minuti e 25 secondi io vi saluto ci vediamo domani o massimo dopodomani per la terza puntata del TG delle cose veramente belle belle ci aggiungerò un altro belle probabilmente perché con questi due episodi veramente roba bella 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 bella